Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare una delle varie espansioni che sono uscite per Chronicles of Crime e vi voglio parlare di Redview, un'espansione Welcome to Redview che a me veramente mi ha intrigato da morire perché ci ributta in un ambiente nella fantomatica città di Redview, ovviamente nella regione del Maine, come non trattarla in America, quei posti laggiù che abbiamo visto molto spesso nei romanzi o anche nei film di Stephen King e saremo un gruppo di ragazzi che dovranno investigare su diversi casi e ci sarà ovviamente molto, questa volta a differenza del gioco base ambientato a Londra, il fascino del mistero perché c'è anche qualcosa di misterioso che alleggia in questa cittadina negli anni 80 quindi si ritrovano proprio tutti quanti i cliché dell'America dell'epoca e uno dei suoi stati più iconici che viene trattato, ve l'ho detto, nella maggior parte dei romanzi di Stephen King anche perché lui è nato e cresciuto nel Maine. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Welcome to Redview è un'espansione di Chronicles of Crime della Lucky Duck Games che noi ringraziamo di cuore per averci offerto una coppa per la recensione grazie ragazzi, veramente sono contentissimo di avere questa opportunità di iniziare anche perché è iniziata ora la collaborazione, di collaborare con voi per la serie di Chronicles of Crime che vi giuro io sto adorando. Ora, il primo, se vi ricordate che lo trattai circa un annetto fa sul canale che ce lo mandò Uplay, che era Chronicles of Crime, la versione quella ambientata a Londra mi era piaciuto moltissimo per la sua parte ovviamente interattiva, per il fatto che a me piacciono da morire ve l'ho sempre detto, non ve l'ho mai nascosto, i giochi guidati da un'app però vivere i casi di Londra un po' di, tra molte virgolette che poi non è, di Scotland Yard e cose del genere non mi intrigava da morire. Invece provando questa espansione, benvenuti a Redview ambientata nel 1985 in questa fantomatica città dello stato del Maine mi è piaciuta da morire perché mi ha rimandato un po' indietro ai film di Stephen King ci possiamo ricordare un po' la cittadina di Derry nel caso di It oppure mi viene in mente anche Stranger Things per tirare fuori qualcosa di ora oppure anche quel bellissimo videogioco Life is Strange per farvi proprio un esempio, secondo me tra i tre più calzanti in questa ambientazione in questi casi che sono quattro mappe, li troviamo tutti cliché ovviamente il classico motel che apre dopo le sette, la tavola calda la stazione di servizio dove c'è il benzinaio Marcio vestito con la salopetta da operaio che aspetta di essere ucciso da Michael Myers, tanto siamo sempre lo sceriffo vecchiotto, un po' avanti con l'età magari che fu marzo sigaro e cose del genere il gioco è un'espansione, non è uno stand alone è un'espansione e per giocare avete bisogno anche del gioco di base perché nel gioco di base di Chronicles of Crime vi danno delle carte ovviamente speciali, delle carte oggetto che ora poi vi faccio vedere e soprattutto il tabellone delle prove, delle evidence e per ora, io spero di non sbagliarmi ma ci abbiamo giocato direttamente con l'app vedete questa è l'ultima partita che si è fatto, eviterò ogni tipo di spoiler è solo in inglese, non abbiamo trovato la versione italiana quindi io presumo che la versione italiana non ci sia ancora se no l'app me l'avrebbe tradotta direttamente c'è il gioco base che è questo qua giù come vi ho fatto vedere prima che è tutto tradotto in italiano da youplay.it anche direttamente l'app però questa espansione non lo è e per giocarci dovete avere anche il gioco base perché a volte vi chiederà degli oggetti, delle prove e cose del genere che nel mazzo di carte di Redview non ci sono nel classico stile ovviamente di Chronicles of Crime abbiamo la scheda del personaggio che a differenza di gioco di base abbiamo vari personaggi ognuno con dei bonus bonus per azioni, vedete per azioni di movimento, prove, scalate e cose varie prove per parlare e prove anche di intelligenza o comunque di acume e ciascun personaggio ha la sua scheda vi posso prendere l'esempio di quest'altro personaggio che ha usato mia moglie che come vedete ha altri valori di caratteristica poi abbiamo la stamina che sono questi cosi qua giù che sono praticamente gli snack questo personaggio Alex è più forte di Jeff però ha un solo livello di stamina invece quest'altro questo ragazzo ne ha molti di più quando il gioco ci chiederà all'app di fare delle prove tiriamo il D6 tutti la devono superare quindi se giocate da soli basta superarla per un personaggio solo se giocate in due tutte e due la devono superare quando fate una prova se è facile l'app vi farà tirare l'abilità normale se è difficile l'app tanto ve lo dirà vi darà un meno 1 voi tirate il dado ci sommate il bonus o il malus che ovviamente vi dà l'applicazione nel caso fosse una prova difficile e l'app dicesse tiro di movimento con meno 1 invece di tirare il bonus di più 1 dovrete fare la prova tiro di dado con un meno 1 nel caso invece di 6 diventerebbe un 5 per superare la prova dovete sempre fare 5 o 6 sul dado ovviamente dopo aver calcolato tutti quanti i risultati i bonus che vi vengono dati un 5 diventerebbe un 4 e l'aveste fallita 5 e 6 vi fa superare qualsiasi prova un 7 o più invece vi permette di fare non solo di superare la prova ma di fare anche due risultati quindi l'avete superato in maniera eccellente e questi token qui non li dovete mai spendere se non quando fallite una prova magari devo fare 5 ho fatto 3 la prova è difficile mi dà meno 1 ho fatto 2 quindi spreco uno di stamina e la rifaccio spreco un'anta di stamina e la rifaccio fino a che li ho disponibili quando non ne ho più disponibili devo andare buona la prima se fallisco la prima non posso più ritirare i dadi e ovviamente ci viene incontro la location della casa dove potremo andare a riposarci e a dormire per recuperare tutta quanta la stamina e far passare la giornata e anche per chiedere un suggerimento ci sono tutti quanti gli altri luoghi visitabili all'interno della mappa ve ne faccio vedere alcuni ma ce ne sono molti di più a Redview tipo c'è un boschetto c'è la scuola dove noi ci abbiamo messo anche per non spoilerarvi niente un personaggio che è il preside poi ad esempio c'è l'ospedale dove abbiamo messo un professore qui un primario un dottore e una paziente e qui c'è il quartiere residenziale dove abbiamo messo un altro personaggio dell'avventura e qui nei casi nelle persone che sospettate qua giù in fondo dobbiamo andare a mettere ovviamente le foto fino a che il gioco non ci dice ok lui si trova direttamente nel quartiere residenziale quindi noi lo dovremo spostare ma solo quando ce l'andrà a dire l'app e ragazzi senza farvi un unboxing all'interno ci sono tutti quanti personaggi nuovi tutte quante le location nuove le carte dei personaggi di Redview che sono segnate con un cappellino e le carte oggetto speciale che sono segnate con un cappellino quelle col cappellino non sono di questa espansione quelle invece senza il disegno sopra di un cappellino sono del gioco di base mi sarebbe piaciuto farvi anche qualche gameplay ma ragazzi è veramente impossibile perché vi spoilero qualsiasi cosa cioè poi è un gioco occhio che è un legacy però la fine del caso è quella il caso finisce sempre nella stessa maniera però magari quando finite un caso su quattro cose che dovevate investigare scoprire ne avete scoperte due o tre o magari una soltanto vi dà magari caso riuscito solo in parte però altre due o tre informazioni vi mancano e quindi potrebbe essere rigiocata e non ve lo voglio spoilerare anche perché una cosa che ho apprezzato da morire di questo Redview che di solito quando si fa le espansioni di un gioco si fa una mera espansione ovvero si mettono carte nuove personaggi nuovi location nuove però poi nient'altro le meccaniche rimangono quelle invece questa piccola espansione inserisce delle meccaniche nuove perché mette il dado che prima non c'era e quindi proprio bisognerà iniziare perché mi garba a tirare dadi mi inviti a nozze bisognerà tirare dadi per fare delle prove sembra di giocare alle case della follia perché proprio c'è l'hanno trasformato in una specie di avventura grafica cioè ancora di più oltre al gioco che devi trovare le prove questa volta ci sono proprio durante l'app non soltanto andando a vedere cosa scende la stanza per trovare clue le prove ma proprio che ne so prova a muovere l'armadio ok proviamo a muovere l'armadio fai un test di forza cosa che nel gioco di base mancava assolutamente poi bellino anche il fatto di inserire i token per la stanchezza quindi è un'altra cosa una figata assurda che ci consente di ritirare dadi quando appunto abbiamo fallito una prova vi ricordo che nel gioco qui ci sono 4 casi tutti concatenati quindi non li potete giocare singolarmente oppure partendo da un caso il terzo al quarto no sono tutti quanti concatenati quindi magari le prove che avete trovato nel primo potrebbero riservirvi nel caso finale nel quarto però è solo in inglese al momento non c'è tradotto anche perché nell'app io e mia moglie abbiamo guardato e ce lo siamo giocati appunto in lingua inglese ragazzi è un inglese scolastico è un inglese furbone è un inglese fatto apposta per farci giocare chiunque quindi non vi preoccupate ora se l'inglese non lo sapete per niente lasciate perdere però anche se lo state studiando a scuola e lo masticate cioè è il giusto riuscite non a seguire la conversazione ma a leggere comunque un testo e a capirne il 60-70% ci potete giocare tranquillamente cioè pochissimo test è molto facile se gli devo dare una valutazione finale a Welcome to Redview gli do assolutamente un 8 su 10 abbiamo fatto il primo caso onesti e sinceri di 4 cose che c'era da scoprire ne abbiamo scoperte 2 2 sono rimaste all'oscuro le abbiamo sbagliate però ci ha dato comunque caso risolto e ci ha detto potete procedere direttamente al prossimo questo cosa vuol dire che magari 2 di quelle cose che non abbiamo scoperto il gioco ci dà la possibilità di scoprirle più avanti quindi non erano importanti al fine della prima missione ed è un'altra figata è che uno dice di 4 cose no beccate 2 sono rovinato mi tocca di giocare caso no il gioco ti manda avanti perché la cosa essenziale di quelle 4 che dovevi scoprire nel primo caso l'hai scoperta quindi non ti focalizzare te lo dice anche non ti focalizzare troppo su una cosa cerca di capire il perché il movente e tutto quanto poi le altre cose potranno venire da sé quindi un 8 su 10 meritatissimo per un gioco che merita da morire ragazzi veramente mia moglie siamo innamorati di Chronicles of Crime e preparatevi perché con la serie Millennium che sta che c'è il kickstarter in corso andremo a giocare nel 1400 quindi nel medioevo a Notre Dame andremo a giocare nel 1900 e andremo addirittura a giocare nel 2200 qualcosa del genere quindi nel cyberpunk faranno una serie un tris quindi una trilogia ambientata nel medioevo ambientata nel 1900 e quindi e anche ambientata nel cyberpunk immaginate come sarà vestire i panni di un bracciatore di android o qualcosa tipo Deckard mi viene in mente a me giocando in un'ambientazione cyberpunk magari facendo un investigatore in un'ambientazione cyberpunk io impazzisco ragazzi per me per me personale come giochi senza niente togliere a Sherlock Holmes consulente investigativo questo per me è il gioco investigativo interattivo più bello mai creato poi ovviamente non li ho provati tutti ma non vedevo l'ora mi arrivasse avevo un hype veramente al pari di quando mi doveva arrivare Deep Madness lo considero per me il top della gamma e questa espansione di Redview la trovate in vendita nel primo link che mettiamo in descrizione più tutti quanti i nostri social a seguire occhio dovete avere il gioco base e l'espansione solo in inglese io ringrazio la Lucky Duck Games per averci offerto questa copia per la recensione veramente bellissimo grazie all'onore di collaborare con voi e ragazzi fatemi sapere un po' cosa ne pensate ci vediamo al prossimo video